Allora, io di giochi di ruolo in vita mia ne ho giocati più di quanti vorrei ammettere, ok? Veramente di tutti i tipi, mai nella vita mi ero trovato di fronte a un gioco di ruolo con protagonisti i senza tetto Cioè, è proprio... racconta la vita dei senza tetto, come? Non lo so Vediamo Io mi ero semplicemente limitato a avviare il gioco per vedere se funzionasse, ma il gioco inizia qui Qua, ecco E... che se fa? Boh, non ne ho la più parola di vedere Quindi, esploriamo insieme ciò... io l'unica cosa che so è che è un gioco di ruolo Poi le implicazioni di ciò che è non... Meissner, ciao Meissner, hai trovato qualcosa di utile? Sì, delle coperte... Ti prepari per l'inverno? Sì, dicono che sarà un inverno brutale Eeeh... Dice, non mi ricordo niente, perché sono qui... sai come sono arrivato qua? Non si ricorda come si chiama, non si ricorda come è arrivato qui Dice, non berrò mai più Comunque, ma c'è un livello di fiducia nell'interazione? Quindi... Vabbè Cosa stai bevendo? Arriva l'inverno, parla Ci parlo? Posso anche bullizzare, ma perché? Ci parlo Dice, guarda questo, cos'è? Un'arma brutale Nessuno ti darà fastidio se giri con questo Non chiedermi dove l'ho presa Dove posso prenderla? Ovunque Potrei parlare nella spazzatura Ma non ho capito che mi ha fatto vedere Ah, è una padella 120 monete E che padella è? Doro zecchino Vabbè Senti Ciao Carissimo Io vado Dice, puoi trovare qualcosa Ah Non posso aprire perché mi manca il perk adatto Non ho il perk E come lo sviluppo il perk? Allora, ho trovato dei chiodi E della spazzatura inutile Prendo tutto Quindi, i cofani delle macchine E i barili Questo è Un barile per Insomma Da accendere Particolare Però Però devo dire che Che mi intriga Allora, in alto a destra Voi non lo vedete Ma c'è un indicatore con il tempo Diciamo Supercolla E adesso Siamo in pieno giorno ancora Quindi io devo esplorare A caccia di cose Ah Allora Ho aperto La cosa in modalità proprio Steel E io rubo tutto Ma che me frega Non so di chi sia sta roba Ah, il morale mi cala Vabbè, no Basta Allora Bene Non sono particolarmente amichevoli Con st'oro Quindi Chi se ne frega Io però Beh, frego tutto Perché a me Non me ne può fregare Davvero Ah, c'è anche un sistema Di crafting Allora Sì, ha oggetti Vari E penso che mi potranno anche Insegnare Degli schemi Di creazione Col tempo Ok Sembra Vabbè Questa 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 rubo Ha una carta igienica Solo quando ti serve Capisci quanto sia effettivamente preziosa Allora Siamo in città La signorina Ha il body painting Non so Vestiti questi Scusi Che dice no Vai via Vabbè Cioè Un minimo Un minimo No eh Zero rispetto Qua È particolarissimo Vabbè Quello Che vuoi Ma che sta Guarda te Mamma mia Signora Sta a carica Pallettoni Che devo dire Che è un gioco Particolare Perché Non fa Minimamente ironia Giustamente Sul tema Ma anzi È una rappresentazione Veramente Molto cruda Di quello che è Il mondo dei senza detto E la realtà Del senza detto Nel senso Totalmente ignorati Dalla collettività Spesso Con contrasti Veri e propri Tra senza detto Per quel poco Che si riesce a prendere Oh Conversazione Finalmente Ho il 20% Possibilità Che mi dia qualcosa Se la prego Di farlo Sì Grazie Dignità Prima di tutto Anzi Mi ha dato qualcuno Che Diciamo che Tutte le persone Che incontriamo Potrebbero darci Dei soldi Così come no Ok Pure questa Mi ha dato Qualche lira Bene Ah Vedi Lei ci ha detto Mi saranno fastidio Mi saranno A giornalare Ci ho fatto Allora Scusami E questo Ha aumentato Le possibilità Di riuscire Di riuscire ad avere Un rapporto Lei Ha un valore Basso Di difficoltà Di interazione Prova a vendere qualcosa Le vendo Le vendo Il mio Meraviglioso Specchietto Va bene Ho fatto troppo Oh Una gomma E Parlando Con i vari personaggi Oh Amico mio Conversazione Dammi tu Sordi Dai No niente Ti rubo qualcosa Non posso Benissimo Arrivederci Ci ho provato Mi piace molto Che Il gioco Dietro a questa apparenza Molto Banale Nasconde In realtà Diverse dinamiche Interessate Perché c'è Il fatto delle skill Che migliorano Perk sbloccabili Quest Ecco qua Potrei dormire Per la notte Quest varie Che potremmo Eventualmente provare Lei ci ha i sordi No eh Si possono ottenere Dei punti Abilità Nel dialogo Eccetera E credo che Ci sia Col tempo Anche la possibilità Di Di Imparare Qualche arte Di combattimento Forse Divertiamoci Che vuoi Dammi una sigaretta Non ce l'ho Ma che Non ce l'ho Si parlava Di combattimenti Lo attacco Eeeh Mi sa per gonfiare Bene Ma ha gonfiato E Che è successo Sono morto No Mi è rimasto Tutto Ma sono ferito Quindi L'ho usata Sto male Però Sto malissimo Ma ce l'ho Delle bende No Prego 44 37 8 Niente 8 Ce l'ho 20 Ce l'ho Ce l'ho Eeeh Scusa Bene Che altro C'ho Ok Allora Ok Devo dire C'è Molto più Molto più interessante Di quanto potesse sembrare inizialmente Cioè Mi piace molto Vi dico la verità Cioè Un gioco su cui Mi riesco a immaginare Di Smanettare Per cercare qualcosa Anche perché ripeto C'è un discorso di combattimento Interazione Cioè Parecchie cose Non ho abbastanza Abbastanza volontà Signor Mi hanno appena venato Niente Intanto Me ne compro Un altro In quelle condizioni Qualcosina da bere Morali 15 Ne compriamo uno La mappa La mappa di Praslav Questa va bene per il fuoco Questa La sigaretta Vabbè una compriamo Bene Allora a questo punto Io chiuderei Il video di oggi Con una bella Grattata qui Allora 9 41 42 11 21 21 15 32 37 9 Ce l'ho E 41 pure Vabbè Ce lo siamo ripagato Salve Devendo questa Ale Bene Gioco veramente Particolarissimo Dunque qua Eh cavolo Dormire è un macello Ah se fai arrabbiare Qualche NPC Non ti parlerò Per un po' Diciamo che lui Adesso dorme Fino a Che Non è riposato E poi si ricomincia Caccia di oggetti Caccia di soldi Caccia di amici Caccia di quest Caccia di situazioni Sempre diverse Un titolo veramente Sorprendente Pensavo che sarebbe stata Una minchiata Invece È un prodotto Che Racconta Questo lato Veramente triste Della Che è successo Ah fa troppo freddo Che racconta Questo lato Veramente triste Della società Triste Nel senso che Sarebbe bello Che Che vivessimo In una società In cui questo Non ci fosse Ma lo racconta Con assoluto Rispetto Con Con dignità Senza Cioè Veramente Trovo Trovo Che sia Che sia Un prodotto Che non Che non Prende in giro Ecco Io Dalla parte Appunto Speravo Che fosse proprio così Allora Il morale Me l'ha Fatta Io vorrei andare A dormire Posso dormire Da qualche parte No Se sia così Complicato Trovare un posto Per dormire No 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 Conto Alcune volte Della Della vita Folle Che fanno I senza Detto Ragazzi Veramente Se uno Si soffermasse A pensarci Alcune volte Magari Quell'euro Che ti chiede Il senza Detto Uno Glielo darebbe Anche più Volentieri Certo Tra l'altro Vivere in una Società In cui Magari Il paese Si preoccupasse Di Di tante cose Non siamo Purtroppo in quel Tipo di società Tocca Accettarlo Però chissà Che con Giochi così Magari Non si riesca Anche a sensibilizzare Un po' La collettività Riguardo Certi temi Posso dormire Si Posso dormire qua Ragazzi Io per adesso Direi che Ci possiamo Salutare qui Io sto per Congelare di nuovo Non trovo un posto caldo Per dormire È un macello Fatemi sapere Se vorreste vedere di più Che persone vi ha fatto E se lo avete giocato Perché sarei anche Curi di sapere Pareri Da parte di chi Lo avesse poi Effettivamente Provato Magari più a lungo Di quanto abbia fatto io Se volessi Bruciare qualcosa Me da dieci minuti Oh Ehi tante volte Ah i dieci minuti Già sono finiti Bene Ragazzi Oh no Di nuovo quello Che vuoi? Dammi i soldi Ma anche no Ma non ti darò mai i soldi Maledetto Infame Te vi assa in colpo Eh Vabbè Ragazzi miei Questo è Per il momento Fatemi sapere E noi ci aggiorniamo Alla prossima Alla prossima Alla prossima